Pensavate che sarebbe uscito un solo video oggi su Black Panther? No! Come avevo detto prima di Luca, non ho dimenticato che voglio dedicare questo canale agli argomenti che vanno di più e Samuel Stern e la Bugs Comics sono argomenti che vanno di più. Ieri è uscita Kalia con il suo primo numero di radicola, il frammento del caduto, l'era dei fondamenti tra l'altro è il sottotitolo, il sovratitolo di Kalia, e dovete darmi il tempo di leggerlo perché voglio anche leggere Teia il mondo di Kalia per capire meglio il frammento del caduto, quindi non temete che arriverà anche un video su Kalia a breve, un paio di giorni, tre al massimo, e non temete se mi seguite su Instagram saprete che nonostante le mie buone intenzioni di essere puntuale con Samuel Stern, purtroppo la mia edicola non aveva né l'extra né Samuel Stern numero 36, quindi li ho recuperati da un'altra edicola solo un paio di giorni fa, li ho già letti entrambi e farò un video su entrambi. Oggi voglio parlare con voi di Samuel Stern numero 34, l'uomo del buio. Prima di cominciare, se ancora non lo avete fatto, vi chiedo di iscrivervi al mio canale, di mettere un mi piace o non mi piace questo video, di tutti gli altri, e di commentare qui sotto con quello che me ne è parso di questo video e di questo numero e di come sta andando Samuel Stern secondo voi. Seguitemi anche sugli altri miei social, tra cui Instagram, Twitch e TikTok. Sappiate che il pregio e il difetto di questo numero, a parer mio, è il fatto che ormai la trama si sta infittendo, che tutto si sta collegando sempre di più e che è davvero appassionante seguire la vicenda di Samuel Stern. Solo che appunto, dicevo, è anche il grosso difetto di questa serie, di questo numero, perché appunto mentre con una serie tv dove una puntata arriva una settimana dopo e al limite, se non te la ricordi, ti vai a rivedere la puntata prima, qui abbiamo delle puntate, degli episodi che arrivano un mese dopo l'altro e non è così facile recuperare quello che è successo due mesi prima, tre mesi prima, quattro mesi prima. Figuriamoci vent'anni, capito Bonelli? Quindi è un po' difficile, nonostante sia comunque entusiasmante, andarsi a rileggere, a risfogliare tutti i vecchi numeri. Devo dire che finalmente questo numero mette chiarezza su chi è appunto l'uomo del buio, chi è l'uomo che tirava le fila anche ai Joostrai dell'Apocalisse in un paio di numeri fa. Non che fosse un segreto, il suo design, il suo volto era chiaro, semplicemente io l'avevo scambiato per un'altra persona. Mi riferisco a Raiden. Raiden è il sensitivo che Samuel Stern ha incontrato nel numero 23, il bene più grande. E dopo Abisco, dopo i fatti di Abisco, tutto è cambiato e era chiaro che qualcosa era successo al mondo, ma nessuno ha pensato che qualcosa poteva essere successo proprio a qualcuno che era lì vicino. Tutti magari pensavamo a Samuel e invece qualcun altro ha subito una grossa, grossa possessione, un grosso cambiamento. Raiden si può dire che non esista più, si ha solo il volto di qualcun altro, il volto di qualcuno di molto pericoloso e Raiden è anche quello che nelle anime morte ha ricontattato Samuel Stern ed è venuto anche a sapere dell'esistenza della figlia di Samuel Stern, ammesso che già non lo sapesse dal momento che, come ho appena detto, non è più Raiden. Ha scatenato appunto un'Apocalisse personalizzata, orchestrata nei Jostrai dell'Apocalisse e soprattutto io l'avevo scambiato per sbaglio con questo Lord Alastair, il corpo e il sangue, pensavo che ci fosse lui dietro ai Jostrai dell'Apocalisse, invece no, è Raiden che pare essere posseduto, niente po' di meno che dall'informe. E cosa vorrà mai da Samuel Stern o cosa vorrà mai dalla figlia di Samuel Stern che pare avere anche, pare avere gli stessi poteri di Samuel, forse anche superiori, però non è cresciuta come Samuel, quindi è un po' più pura e forse è proprio da sua figlia che l'informe vuole aiuto per riportare a sé tutti i demoni della Terra. Perché come abbiamo visto nel numero scorso ci sono anche due fazioni demoniache, non c'è solo il male, ma c'è il male dei demoni che vogliono però fuggire da legione e invece l'informe che vuole che i demoni tornino a lui. E Samuel Stern dovrà non solo decidere da che parte stare tra il bene e il male, anzi lo abbiamo già visto ad Abisco che ha già deciso quale fazione aiutare, ma deve anche scegliere quale sottofazione tra demoni e l'informe aiutare. In tutto questo la vicenda segue strenuamente le vicende del passato di Samuel Stern, di quello che è successo appunto con l'omicidio di sua moglie, che in teoria è stato accidentale perché Samuel Stern, scopriamo finalmente, anche se già lo sospettavamo che Samuel Stern ha aggredito l'aggressore di sua moglie che era armato perché aveva visto un'ombra in lui e quindi l'istinto suo è stato quello di esorcizzarlo. Ma scopriamo in questo numero che non è stato un caso se loro sono stati rapinati proprio in una sperduta stazione di servizio qualche anno fa. Ma pare che l'informe abbia mosso le fila dei suoi demoni per fare in modo che Samuel diventasse quello che è o quello che l'informe sperava diventasse, invece Samuel continua a nascondersi dietro a una maschera di uomo normale. Mi piace vedere come in questo episodio tutti si stiano mobilitando perché sono preoccupati per Samuel Stern, perché sono preoccupati per quello che è successo alla figlia di Samuel Stern. Stern si mobilita a cranna dalla Scozia, Duncan è sempre al suo fianco, persino Penny fa una telefonata. Mi dispiace per la grande assenza di Angus che però sarebbe stato forse troppo da gestire in questo numero. Mi piace vedere come ormai Raiden sia allo scoperto con Samuel Stern, sia a tutti gli effetti un villain, ma sia anche in un certo senso il volto dell'informe che per definizione non avrebbe un volto. Quindi diciamo che il volto dell'informe in questa run è appunto quello di Raiden. Si parla anche un po' del passato remoto di Samuel Stern e di come lui, nonostante abbia conosciuto Duncan quando era un preadolescente, comunque i suoi ricordi siano molto vaghi, come visti attraverso una vecchia pellicola, come se lui non fosse il protagonista, ma come se lui fosse spettatore dei suoi ricordi. E questo non ci è ancora dato di capire perché, se non fosse che è sempre bello avere un protagonista misterioso, un protagonista che non ricorda il suo passato, in modo che quando noi lettori lo scopriamo per la prima volta, anche il protagonista stesso lo scopre per la prima volta. Quindi a livello extra narrativo ha un senso, però ecco non ci hanno spiegato nella trama perché Samuel ha i ricordi offuscati del suo passato. Probabilmente, come dice Duncan stesso, non c'entra la sua anima, lui non ha un demone, ma c'entra la sua mente, quindi molto probabilmente ha un trauma che lo ha bloccato e che gli impedisce di ricordare cosa è successo nel passato. Probabilmente qualcosa appunto ha a che fare con la sua prima possessione, il suo primo esorcismo, il suo primo contatto con le ombre. Mentre Lily sembra che stia accettando la presenza delle ombre, Samuel in un certo senso è sempre più reluttante. Nel finale di questo episodio c'è appunto a tutti gli effetti, vediamo una donna che parla con Raiden e lo chiama chiaramente l'informe, quindi sappiamo chi c'è dietro alla possessione di Raiden e questa donna non ci è dato capire chi è, ma io credo sia la madre di Samuel Stern. Secondo me è tutto collegato, sua madre, la sua moglie che ormai non c'è più, Lily. Io credo che sua madre abbia votato, abbia sacrificato l'innocenza di Samuel Stern per farlo diventare un catalizzatore per demoni. Io credo che sua madre non sia del tutto innocente e che abbia a che fare con le doti di Samuel Stern. Mi sbaglierò, però vedremo, vedremo. Un numero davvero molto interessante, però molto appunto faticoso perché ho dovuto recuperare alcune cose, che però finalmente le ho chiarite nella mia testa e che getta tantissime basi per il futuro, come Fumasoli stesso ha detto. Questo numero, a differenza di quello che chiudeva il secondo anno editoriale, non chiude una trama, ma bensì apre una vera e propria run verso il futuro e questa run sembra finalmente, come il nome inglese stesso dice, correre un po' più rispetto agli altri numeri vecchi che avevano un po', diciamo il difettuccio di lanciare il sasso in un numero e poi nascondere la mano per diversi numeri. Qui inizio a credere finalmente che le cose potrebbero prendere un'accelerata, prendere un infettimento di trama, non so se si può dire così, e spiegarci bene che cosa succederà d'ora in poi. Spero di vedere davvero tutte le fazioni che ci hanno mostrato finora all'opera per farci capire cosa è collegato, cosa non è collegato, perché non deve essere per forza tutto collegato, però quali saranno le forze in gioco? Abbiamo visto tantissime forze, abbiamo visto gli angeli, abbiamo visto l'agenzia, abbiamo visto le sette sataniche, abbiamo visto i giostrai dell'apocalisse e anche la loro controparte buona, abbiamo visto che appunto Raiden è posseduto niente po' di meno che dal maligno e che i demoni stessi sono divisi in due fazioni. Quindi insomma c'è tanta carne al fuoco e l'hype è tantissima per il futuro di questa serie. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo numero, se vi ha dato hype, se vi ha confuso, spero che questo video vi abbia un pochino aiutato a schiarirvi le idee, ma se non l'ha fatto comunque seguite i numeri che vi ho consigliato di riprendere. Io come sempre vi ringrazio per avermi seguito fino alla fine del video e con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video.